Benvenuti, Monaco 2019, orgoglioso di presentarvi le tre novità principali della linea sportiva sul climbing. Come tutti sapete la rampicata sta per arrivare alle Olimpiadi e sarà un grande salto in avanti per questo sport. Non poteva la sportiva non presentare quest'anno un prodotto specifico per i giochi olimpici. Sappiamo che la disciplina della scalata da velocità, della speed sarà molto importante per la prima volta in ambito di competizione e la sportiva ha preparato un prodotto ad hoc. Fino ad ora la scarpa maggiormente utilizzata per la velocità è stata la Cobra. Ne abbiamo mantenuto la struttura, però abbiamo lavorato su piccoli ma importanti dettagli per renderla veramente la scarpa dei 100 metri piani, se vogliamo dire. Allora cosa abbiamo cambiato rispetto all'originale? Intanto la Tomayan, siamo passati da pelle a microfibra, la microfibra, ecco fondamentalmente scusate, fondamentalmente abbiamo ridotto il peso in tutti i modi e questo attraverso diciamo i seguenti dettagli. Dalla Tomayan in pelle siamo passati alla Tomayan in microfibra, la microfibra ha un peso specifico più leggero, è più confortevole e si adatta di più ai piedi. Poi abbiamo levato tutta la parte posteriore della suola che come sappiamo non serve durante la velocità e abbiamo messo uno strato di una gomma sottilissimo, solamente un millimetro, dal peso specifico molto basso. Altro importante dettaglio è questo rinforzo di polioretano espanso sulla parte superiore della Tomayan. Questo rinforzo ha una duplice funzione, una protettiva perché quando si fa velocità molte volte si strisciano le scarpe sulle prese e si vedevano molte cobra originali di quelle in pelle bucate e rovinate. Allora questo rinforzo protegge proprio quella parte lì che è un punto un po' critico, ma oltre a quello è un rinforzo di un materiale molto liscio e che garantisce scivolamento. Al contrario che in tutte le altre scarpe dove si pone un rinforzo di gomma, di un materiale molto aderente, qui si voleva proprio mettere un materiale che scivolasse in modo che la scarpa non si aggrappi mai sulle prese. Una particolarità, il nome, Cobra Speed 4.99. Sappiamo che il record di velocità al momento nel mondo è 5.48. Per la sportiva è anche, se vogliamo, una visione sul futuro. Sappiamo che è nel DNA di questa azienda guardare sempre avanti, quindi ci auguriamo che questo numero sia un numero diciamo quantomeno plausibile.